ragazzi mi raccomando mi sono segnato delle cose che devo dire mi raccomando per chi volesse sostenere questo canale lo può fare gratis solo gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina vi consiglio di eh inoltrare il link del canale per fare iscrivere i vostri amici interisti sui vostri gruppi whatsapp telegram eh con la amante eh con gli amici con tutti perché qui ora ci stiamo per divertire ci stiamo per divertire anche perché il signor Zanga ha giocato sull'ignoranza dei tifosi su quegli soprattutto sui tifosi ignoranti che guardavano solo la palla che entrava dentro sta venendo fuori ora il personaggio che addirittura vuole andare in causa con l'Inter andando in causa con l'Inter come abbiamo detto ieri con Alessandro G senza fare terrorismo come fa il reverendo eh andando in causa con l'Inter potrebbe creare qualche problemino però attenzione perché la Repubblica in questo in negli ultimi minuti dice che OCTRI conferma a tutti cessioni solo in casi particolari quindi cosa vuol dire? Vuol dire che OCTRI eh la può rivendere subito dice Repubblica come fra tre quattro cinque sei mesi il reverendo di Pechino io vorrei io ascoltami questo è un appello al reverendo agli abbonati del reverendo cioè vi ha sparato duemila cazzate in due anni ma voi che gli pagate l'abbonamento cioè ve le fate due domande oppure no che da la pioggia di milioni di zanghe della settimana scorsa è passato ad OCTRI che rimane cinque sei anni lui sta facendo terrorismo e sta giocando sull'ignoranza dei tifosi dell'Inter facendo passare OCTRI come zanghe per quelli cattivi mentre voi che siete abbonati dovresti farti capire che se non era per OCTRI zanghe era già andato a gambe all'aria tre anni fa la Repubblica cosa dice qualche minuto fa che zanghe era in trattativa con gli arabi cosa vi abbiamo detto ieri pomeriggio nella live con Alessandro G che gli arabi non vogliono più parlare con zanghe ma vogliono prendere l'Inter OCTRI e te lo sta dicendo la Repubblica ti metto il link questo personaggio durante il giorno più bello uno dei giorni più belli dei tifosi interisti parla di cause di mille proposte fatte a OCTRI tranne una tranne quella di restituirgli i soldi l'avevate dipinto come un grandissimo manager come un businessman eh a livello top andava avanti solo con improvvisazione alla giornata questo è uno che vive alla giornata OCTRI sapeva benissimo che aveva davanti aveva davanti uno che non che non riconosce la sua firma e non ripaga i prestiti che non è in grado di pagarne un altro solo quegli anestetizzati non vedevano queste cose e lui con quel richiamo alle armi di ieri perché lui ieri con quel messaggio fa un richiamo alle armi per i tifosi dell'Inter anestetizzati OCTRI sono delle merde quindi OCTRI che gli ha dato la bombola dell'ossigeno per tre anni prestandogli soldi e poi rivolendoli sono dei pezzi di merda praticamente vergogna hai rovinato la festa dell'Inter vergogna giustamente c'è chi vi fa notare Giuse non ha rovinato nulla per noi la terza stella perché si toglie dal stavo per dire una brutta parola si toglie dai coglioni ed è la verità Repubblica sostanzialmente mi hanno mandato un messaggio proprio ora guarda in diretta il bello della diretta scrive che Zang nei mesi passati era in trattativa per gli arabi per un miliardo e 150 milioni ed ha rifiutato non voleva vendere agli arabi Steven Zang lo ha scritto Repubblica non lo diono solo i più esonerati capito lo dice Repubblica dopo il sole 24 ore ti dice che hanno il compratore dopo la verità panorama che ti dice ci sono gli arabi allora a noi non ci deve chiedere scusa nessuno io sono contro la violenza di quello che può andare in giro con il mitra a sparare se rimane Zang io non sparo a nessuno io sparo solamente una cosa che questa vicenda riunisca tutti gli interisti questa storia deve riunirci tutti non ci deve allontanare perché questa è la gestione questo qui indipendentemente dai titoli e io non sono uno gioventino che ti dice vince l'uniosa e conta questa è la gestione più vergognosa e di basso livello della storia dell'inter perché ricordati una cosa anche per uscire di scena ci vuole una scelta classe ci vuole un certo appeal ci vuole capito ci vogliono certe caratteristiche lui sta passando peggio di yogurtri del milan ciao e Grazie.